Il giornale economico Il Sole 24 Ore, come ogni anno, pubblica la classifica delle città più vivibili d'Italia, secondo la comparazione di alcuni parametri, come la sicurezza, il lavoro, i servizi pubblici, la cultura del tempo libero e tanti altri ancora. Come è naturale immaginare, la graduatoria sortisce lo stesso effetto campanilistico che genera l'appartenenza ad una squadra di calcio, le potenzialità inespresse, le occasioni mancate, le scelte sbagliate, l'allenatore e in questo caso il sindaco da sostituire. Ma emozioni e tifo a parte, senza avventurarsi in un'analisi complessa sul posizionamento effettivo di ogni singola città e sulla corretta valutazione ed applicazione di tutti i parametri considerati, c'è un elemento che balza l'attenzione dal cuore sia dei tifosi di calcio che ai semplici cittadini. La Campania, con le sue cinque province, è agli ultimi posti. Per gli amanti delle classifiche, aprendo ancora più spazio al tifo, su 110 province, Benevento precede le altre quattro campane al 95esimo posto, segue Avellino alla 102esima posizione, Salerno alla 105esima posizione, Napoli alla 107esima e Caserta alla 110esima, conquistando anche il trofeo dell'ultima in assoluto in Italia. Abbiamo detto che non avremmo analizzato la correttezza e la valenza di questa graduatoria delle città più vivibili d'Italia, alla sua 28esima edizione, ma forse qualche considerazione si potrebbe anche spendere, perché in fondo la mortificazione urlerebbe vendetta? Ma quale ed in che modo? Che il parametro della sicurezza in Campania possa ricevere un voto basso ci sta e come. Che manchi il lavoro non ne parliamo proprio. Che l'ambiente sia inguaiato è un complimento, basterebbe da sola la terra dei fuochi. I servizi pubblici combattono tra deficienze economiche ed inefficienze organizzative. I consumi sono direttamente relazionati alla mancanza del lavoro. Ma quando arriviamo alla cultura e dal tempo libero, è qui che il sangue ribolle, la coscienza rabbrividisce, gli antenati resuscitano, la storia si ribella. Che fine ha fatto quella meravigliosa Campania, Felix? E cosa starà pensando Plinio il Vecchio leggendo la nuova classifica del Sole 24 Ore? Ed a Capua, Puteoli, Sorrentum, Neapolis, Salernum e via dicendo, chi glielo riferirà? Se siamo ultimi in tutto o quasi, sicuramente la Campania resta prima in assoluto e non solo in Italia, ma nel mondo, per la cultura, il patrimonio artistico e monumentale. E non ci può essere certo comparazione tra la reggia di Caserta e con tutto il rispetto per la prima provincia in classifica, il Palazzo dei Rettori di Belluno. E se parliamo del tempo libero, avete mai sentito dire che d'estate un bellunese si bagni nel lago di Misurina piuttosto che nelle acque di Ischia o di Positano? Ecco, il rischio è proprio questo, diventare un banale tifoso meridionale che non accetta un'impietosa radiografia di un'Italia da sempre e per sempre spaccata in due. Ma se c'è tanto da combattere su tutto il resto ed è impresa enorme ed imprevedibile nei tempi, perché non lavorare su ciò che nessuno potrà sottrarci? La bellezza, la cultura, le tradizioni, la straordinarietà di un territorio che proprio il Nord ci invidia in barba le classifiche che invece lo premiano su tutti gli altri fronti. Perché non iniziamo tutti a diventare tifosi ostinati di questa sfortunata regione, uniti in uno sforzo che non è solo quello di conquistare posti in graduatorie più o molto meno attendibili, ma quello di poterci talvolta misurare anche con la prima provincia in classifica, la splendida Belluno, con ospitalità e provocazione, chiedendo magari ad un suo residente «Mi scusi, ma le piacerebbe gustare una sfogliatella napoletana dalla collina di Posillipo?» Non si sa mai. Magari tra i parametri dell'anno prossimo potrebbero inserire anche la voce «pasticceria e ristorazione» e qui lo scudetto non ce lo toglie nessuno. Grazie. Grazie.